in un articolo di tecnica della scuola scritto da saradorno si ripercorre un po' attraverso una narrazione di uno scrittore quello che è il cattivo esempio che ci può arrivare anche da fuori onde come quelli striscia la notizia che riguardano l'ex compagno della premier giambruno ma non ci sono solo questi cattivi esempi ci sono tanti altri cattivi esempi che certamente non incidono solo esclusivamente sull'educazione ma che possono portare a un'emulazione c'è un problema di ludopatia che riguarda gli adolescenti ci sono tante famiglie che hanno avuto grandi problemi economici perché i figli hanno rubato le carte di credito e hanno cominciato a scommettere anche non legalmente così come hanno fatto invece dei calciatori milionari quella emulazione in negativo certamente può generare diseducazione può generare comportamenti davvero difficili anche da reggere per la nostra società un ludopatico poi un costo sociale per la società altissimo allo stesso tempo se parliamo di violenza sulle donne di molestie alle donne non è molto carino quello che striscia la notizia ci ha fatto vedere accade in una redazione però detto questo poniamoci veramente come obiettivo i nostri ragazzi e pensiamo che cosa non dobbiamo far vedere loro per farli crescere con dei valori e per farli crescere diversi da come siamo noi che molto spesso non siamo un buon esempio non siamo un buon esempio